Il veterano del Teramo più giovane d'Italia però nel senso che oramai sei dei nostri e quando a Rigoni fra dieci anni non giocherà più ti toccherà la fascia di capitano io credo che più o meno andrà così perché ti facevamo fuori da Teramo e invece sei ancora qui più forte di sempre voglio dire soddisfatto della squadra e delle tue prestazioni non solo quella di oggi. Molto soddisfatto della squadra secondo me stiamo facendo un grossissimo percorso di crescita e dobbiamo secondo me continuare così lavorando e migliorando sempre di più e secondo me lo stiamo facendo vedere in campo secondo me abbiamo fatto due buonissime prestazioni i risultati secondo me arriveranno perché se riguardiamo i risultati ovviamente ci possiamo recriminare qualcosina però secondo me se continuiamo così prima o poi facciamo i risultati arriveranno. Ciao Matteo buonasera. Buonasera. Sul piano dell'autostima partite come queste quanto sono importanti soprattutto perché un gruppo rinnovato giovani insomma ringiovanito rispetto all'anno scorso che idea vi state facendo insomma anche per il proseguo del campionato? Eh secondo me queste partite aiutano molto all'autostima perché comunque abbiamo incontrato due delle pretendenti per il campionato almeno sulla carta e abbiamo fatto due ottime prestazioni e incontrando comunque giocatori di livello e secondo me facendo prestazioni come queste l'autostima cresce man mano andando andando avanti cresce sempre di più e secondo me la squadra è molto molto competitiva eh siamo ragazzi giovani però ci stiamo ci stiamo allenando molto bene e secondo me se continuiamo a fare queste prestazioni come ho detto prima i risultati arriveranno. Eh ciao Piacentini allora sì è vero che questo Teramo fa fatica a fare gol per oggi ci ha provato in più di un'occasione insomma poteva segnare ma io sottolineerei anche la prova la prova difensiva del Teramo no? Non era facile oggi confrontarsi con gente come Varela come Paloschi come Guberti insomma quanto è stato difficile? Un Teramo che non ha subito oggi. Secondo qualche occasione due occasioni potevamo fare qualcosina di più perché abbiamo concesso però eh sicuramente abbiamo fatto una buona partita sia in fase offensiva che in fase difensiva. Eh non credo che facciamo fatica a fare gol comunque eh secondo me abbiamo degli attaccanti molto forti e ci servono anche episodi che diciamo ci girino dalla nostra parte eh però comunque queste partite ci aiutano ci danno certezze anche in fase difensiva perché comunque attaccando difensiva e giocando contro attaccanti di questo livello e come oggi non subendo gol secondo me ti aiuta aiuta molto sia la squadra che il reparto difensivo. Matteo eh bene visto eh ci dà un giudizio sul Siena perché la sensazione dal campo almeno vedendo la partita questo pomeriggio che sia una un organico molto forte sulla carta ma che a livello di organizzazione di gioco eh sia un pelino sotto il teramo in questo momento ed ecco perché ad organico probabilmente tecnicamente superiore la partita forse meritava di portarla a casa più il teramo che Siena. Eh sì eh secondo me loro sulla carta sono molto forti eh però poi c'è c'è il campo e se noi facciamo prestazioni come quella di oggi secondo me possiamo mettere in difficoltà chiunque e ovviamente non ci possiamo e non ci dobbiamo spaventare da farci spaventare da avversario perché comunque ci sono squadre forti ma secondo me se giochiamo come ci dice il mister intensità alta mettiamo in difficoltà possiamo mettere in difficoltà chiunque e senza paura di nessuno. Ritieni che abbiamo qualcosina in meno nel doppio confronto con Intella e oggi con il Siena? Meritavamo qualcosa in più? Secondo me c'è secondo me meritavamo qualcosa in più eh però il corsino di poi è facile però i risultati secondo me arriveranno eh il campo poi il campo parla eh se non se non abbiamo fatto punti vuol dire che dobbiamo lavorare ancora di più come stiamo facendo aumentare l'intensità ancora un po' così mettiamo in difficoltà sempre di più gli avversari e arrivare a giocarcela con chiunque. Matteo proiettiamoci anche un po' verso la gara di Modena eh che tipo di partita eh ti aspetti poi se arriva in una regione a te a te cara quindi insomma non credo sia una partita come le altre per te. No per me c'è sicuramente tanto entusiasmo per andando a giocare a Modena eh che comunque sono a casa però è una c'è una partita di calcio quindi devo affrontarla come affronterei qualunque altra partita eh sì anche loro secondo me sono una squadra sulla carta fortissimi però se continuiamo a giocare così con l'intensità che abbiamo possiamo mettere in difficoltà anche loro. Quindi eh Matteo in definitiva questo pareggio quanto vi accontenta alla luce dell'avversario quanto rammarico vi lascia invece in bocca? Eh secondo me oggi ehm è un risultato secondo me a parer mio più giusto oggi che quello precedente a Intella eh perché comunque a livello di occasioni se guardiamo nello specifico secondo me quasi pareggiamo dai quindi secondo me ci sta il pareggio oggi eh c'è più rammarico secondo me e anche secondo me secondo confrontandomi con i miei compagni eh a Intella potevamo sfruttare meglio quella partita perché loro non stavano diciamo ancora al cento per cento e come si è visto anche dal risultato di oggi. Matteo eh una domanda personale perché eravate diventati un po' questa è stata una filastrocca, vanno via, si valorizzano Piacentini, Santoro e Diachite, Piacentini, Santoro e Diachite, Santoro e Diachite non ci sono più, Piacentini è rimasto, è rimasto come mai? Eh sono rimasto perché non c'è stata nessuna diciamo nessuna proposta eh reale da da una serie diciamo dalla serie B quindi piuttosto che c'è in un'altra serie C non ci sarei mai mai andato cioè per giocare in serie C sinceramente rimango a termo senza nulla togliere altre squadre non mi permetterai mai di. Passano gli anni ma Rigoni è sempre Rigoni quindi nel dire e nel fare la disamina delle gara ho detto a Rigoni è una conferma eh e continua ad essere sempre costante. Io ti voglio fare solo i complimenti ma anche un po' alla squadra perché nella globalità il Teramo ha giocato meglio del Siena anche se lo zero zero secondo me è risultato giusto non avendo creato moltissimo in zona gol. Non so se tu sei d'accordo. Sì sì sono sì sono d'accordo eh forse abbiamo fatto qualcosa in più noi del Siena però a livello di occasioni più o meno abbiamo magari fatto di più però poi a livello di occasioni sono d'accordo eh ho sentito prima Matteo sono d'accordo con lui il rammarico è più per per sabato scorso eh che per oggi anche se comunque oggi è stata un'altra un'altra ottima prestazione eh però adesso dobbiamo sicuramente continuare a far queste prestazioni però cercare di portare a casa anche perché complimenti sono belli da ricevere però poi sono più belli i punti da portare a casa quindi eh deve darci deve darci un morale deve darci entusiasmo eh perché dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo perché mettiamo in difficoltà le squadre e dobbiamo migliorare nel portare a casa dei risultati perché poi alla fine conta quello ciao Andrea buonasera ciao ciao buonasera voglio chiederti l'episodio di Bernardotto eh dove dove in pratica insomma sembrava essere calcio di rigore io non so adesso tu dal campo che idea ti sei fatto che impressioni hai avuto all'istante? Eh poteva fischiarci a noi su Bernardotto l'anno scorso qua con l'Avellino ne eravamo fischiato più o meno così un po' meno un po' più evidente l'anno scorso all'Avellino però più o meno l'azione era quella quindi ci poteva stare eh non era secondo me nettissimo però ci poteva stare poteva essere fischiato ciao eh ciao Andrea senti quanto eh vi hanno fatto piacere gli applausi finali del del pubblico che eh convinto ha apprezzato l'impegno la prestazione di voi giocatori no ha fatto piacere ha fatto piacere anche perché era da tanto che non giocavamo una partita vera con il pubblico quindi era una cosa che ci mancava ed è stato bello finire così la partita eh sarebbe stato ancora meglio con la vittoria in tasca però sicuramente fa piacere che che da fuori abbiano percepito eh lo spirito di questa squadra che in queste due partite di inizio campionato comunque ha messo in campo un'intensità eh elevata ha fatto è stata propositiva in tutte due in tutte due le partite quindi eh penso che da quel punto di vista i tifosi gli sia piaciuto l'atteggiamento che ha avuto la squadra ecco Andrea eh da capitano ti chiedo se insomma c'è hai la sensazione che quest'anno il Teramo eh debba un po' cambiare il tipo di DNA gli ultimi due campionari li ha fatti diciamo di avanguardia potendo guardare un po' più dall'alto verso il basso se quest'anno hai anche te la sensazione che ci vorrà più coltello tra i denti di quanto non sia stato in queste ultime due stagioni ma più che altro quest'anno il Teramo è una squadra molto 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 giovani quindi le squadre molto molto giovani devono capire man mano quale può essere eh quale può essere la 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 propria dimensione nel campionato ecco noi in questo momento dobbiamo pensare a a fare a fare quello che stiamo facendo adesso essere propositivi credere in quello che facciamo nel quello che il mister ci vuol far far fare sul campo e niente senza senza star lì a a far ragionamenti su su sulla posizione o su dobbiamo crearcelo noi eh la nostra dimensione perché comunque abbiamo tanti giocatori che hanno grosse potenzialità però comunque sono ragazzi giovani quindi non è così scontato che riescono ad esprimere in tutte le partite le loro le loro le le loro grandi potenzialità quindi dobbiamo stare tranquilli però non dobbiamo avere né paura né né essere troppo spavaldi ma essere concentrati su quello che su quello che stiamo facendo abbiamo fatto queste due partite contro squadre sulla carta importanti però non anzi abbiamo forse fatto qualcosa in più noi eh forse questo un ramarico che un po' abbiamo perché comunque quando fai queste due prestazioni qua sarebbe stato molto più bello portare portare a casa qualcosa in più però teniamoci le prestazioni e continuiamo così. Praticamente questo terreno è diverso da quello passato soprattutto nella zona nevralgica del campo dove giochi tu avevi Santoro al tuo fianco con determinate caratteristiche anche di forza fisica particolare gamba cossa e quant'altro e adesso hai due giocatori sostanzialmente diversi al tuo fianco che sono Viero e Mungo che cosa cambia per Arrigoni che invece riesce a stare su uno standard di rendimento alto? Ma cambia vabbè innanzitutto giochiamo giochiamo col vertice basso giochiamo a tre quindi è diverso da giocare in due in mezzo al campo però penso che Mimmo e Fede che hanno giocato in queste due parite qua è vero che sulla carta magari sono giocatori sono palleggiatori sono sono giocatori bravi tecnicamente però sanno anche dare grande intensità se c'è da mettere la gamba la mettono tutte e due quindi secondo me ci ci integriamo bene poi dopo stiamo 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 cercando di 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 capire i meccanismi del mister di metterli in pratica il più possibile perché ci dà la possibilità di di fraseggiare bene in mezzo al campo ecco noi dobbiamo insistere su questo e crescere perché penso che il mister ci dia una grossa opportunità in questo senso di di riuscire a a tenere molto il pallino del gioco e e quindi mi trovo mi trovo bene nel in questo in questo centrocampo eh Andrea prima ho chiesto al mister eh la situazione un po' dei palloni dei calci da fermo insomma delle situazioni da calcio da fermo visto che tu sei tra quelli che batte punizioni calci d'angolo e quant'altro eh è lì che che bisogna un po' migliorare secondo te anche per cercare di sbloccare determinate partite eh diciamo che era un difetto che avevamo anche anno scorso nel senso che tanti angoli la sensazione è quella che possiamo crederci di più nel nel andare a colpire a colpire la palla però ci lavoriamo tanto abbiamo anche oggi abbiamo abbiamo provato due o tre situazioni che avevamo provato in allenamento e siamo stati abbastanza pericolosi però possiamo dar possiamo dar la sensazione di pericolosità maggiore ecco questo lo credo anch'io dobbiamo cercare di di essere più cattivi nel sfruttare questi queste situazioni che abbiamo visto domenica scorsa che tante volte possono possono determinare risultati senti andrei io voglio chiederti se ti senti leader in questa squadra insomma un punto di riferimento al centrocampo un uomo guida per i compagni eh con tutta la tua esperienza e visto che sei anche al terzo anno qui al teramo ma mi sembra io cerco il cerco di farlo cerco di esserlo poi eh sono anche il più esperto siamo tanti giovani e e io sono sono il più esperto quindi è un ruolo è un ruolo che 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 devo eh deve essere quello il mio ruolo nel senso eh devo cercare di farlo di farlo al meglio di dare una mano ai ragazzi anche nei momenti nei momenti magari difficile di farli capire che insomma che ci sono che e quindi sì sentirmi non lo so nel senso io cerco di farlo poi dopo spero di di farlo al meglio e che anche i ragazzi si trovino in me una persona soprattutto ma un giocatore che che li faccia da riferimento. grazie a tutti grazie a tutti